Il Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, certificato dal Ministero, lo dice a chiare lettere, la Toscana è la regina del biologico in Italia e tra le migliori in Europa. Nell'ultimo rapporto del SINAB si forniscono anche i numeri di questo primato, 35,8% di incidenza delle superfici certificate bio rispetto al totale, ampiamente al di sopra della soglia del 25% fissata dagli obiettivi europei, numeri che peraltro continuano a crescere di circa un punto e mezzo ogni anno e soprattutto grazie alle imprese femminili, che sono il 34,9% del totale. Ad oggi quasi 230.000 ettri sono destinati a queste coltivazioni e in particolare alle culture foraggere, ai cereali, all'olivo e ai pascoli. Ma il primato non viene dal nulla. I risultati, spiega Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana, confermano l'impegno costante e la sensibilità degli agricoltori toscani per la sostenibilità insieme alla capacità imprenditoriale nel rispondere alle nuove domande dei consumatori, per i prodotti che rispettano l'ambiente, di qualità e legate al territorio. Già perché il cambiamento che investe i nostri campi è apprezzato dai clienti, anche se i consumi di questi prodotti sono cresciuti soltanto dello 0,5%, numero che resta basso soprattutto per il costo, talvolta eccessivo. Chi però sceglie il bio, nonostante i portafogli, lo fa per il 45% nella frutta, per il 22% nel latte e nei formaggi e per l'11% per cereali e pasta. Lo sviluppo del comparto, insomma, è evidente e segue di pari passo la biodiversità e le tradizioni agricole fiori all'occhiello della nostra regione. Ad oggi la Toscana ha 464 specialità censite ottenute secondo regole tradizionali protatte nel tempo per almeno 25 anni, 89 prodotti a denominazione con 58 vini che da soli valgono 1,3 miliardi di euro di indotto e 31 prodotti alimentari. Per la Coldiretti Toscana particolarmente importanti sono state le politiche di sostegno messe in campo dall'assessorato della regione con l'attivazione di fondi europei che hanno consentito lo sviluppo del settore e accompagnato le imprese nel passaggio dall'agricoltura tradizionale a quella biologica. Una sfida, dice ancora Filippi, che possiamo dire di aver vinto e che pone oggi la Toscana tra le regioni più green d'Europa.